Ogni cristiano è un missionario, anche una monaca di clausura, e la santa di oggi, Santa Teresina di Gesù, bambino, proclamata anche da Giovanni Paolo II, dottore della Chiesa, ci insegna questo aspetto. Naturalmente il suo insegnamento è molto ampio, pur nella brevità della sua vita, e manifesta il genio di Dio nei suoi santi, ma questo aspetto della missionarietà è ciò che vorrei sottolineare con voi in questo breve video di oggi. Per fare ciò vorrei partire da un testo che tutti conosciamo, è il testo della vocazione di Teresina, e poi andare a toccare altri tre testi, quindi non sarà un lavoro dottorale su Teresina in un breve video, ma qualche toccatina per approfondire questo argomento. Avevo sentito un paio di volte questo contrasto su Teresina, che a prima vista sembra già molto interessante. Dicevano, Teresina ha vissuto come monaca di clausura nella sua vita terrena e come missionaria nella sua vita adesso nel cielo. Naturalmente questa affermazione viene fondata su quello che lei stessa dice di sé, ovvero passerò la mia eternità, passerò il mio cielo a spargere dei fiori sulla terra, a fare del bene sulla terra. L'espressione però, in questo grande contrasto, potrebbe oscurare il fatto che Teresina già su questa terra aveva un cuore missionario, un cuore che è aperto alla missione ancora prima dell'ingresso nel Carmelo, anzi proprio nel momento in cui dichiara a suo papà che vorrebbe entrare nel Carmelo, già si sente madre spirituale e si dedica a pregare, a partorire spiritualmente il suo primo figlio, il criminale Enrico Pranzini, che verrà condannato a morte nel 1887, se non erro. Ma cominciamo con il primo testo. Mi baso su questa edizione delle opere complete di Santa Teresina di Gesù Bambino, mi sembra dalle referenze un'edizione forse tra le più autorevoli perché coedita dalla libreria editrice vaticana e delle edizioni del Carmelo OCD. Allora, il testo, come posso benissimo immaginare, lo conosciamo tutti. Teresa che vive il suo grande tormento, ma io voglio essere tutto nella Chiesa, voglio essere missionaria, voglio essere maestra, un dottore che insegna la verità di Cristo, a far conoscere l'amore e la verità di Cristo, vorrei essere veramente tutto, ma conosco la mia piccolezza e già le tracce della piccola via sono lì, perché accanto all'ardore del desiderio d'amore c'è anche la coscienza della propria piccolezza e questa è la via di Teresina, è un binario di intensissima tensione tra un desiderio molto grande e la coscienza della propria piccolezza, allora è il Signore che realizza questo desiderio. Teresa presenta anche una bella immagine, quella dell'avere gli occhi è il cuore dell'aquila, ma è il corpo di un piccolo passerotto e quindi è l'aquila divina che permetterà al cuore, al desiderio, innescato da Dio nel cuore, innestato anzi da Dio nel cuore dell'uomo, a realizzarsi. Arriva il momento in cui vorrebbe avere tutti i doni, tutti i carismi, tutte le missioni e capisce che deve trovare un punto sintetico per vivere questo e riflette sul corpo mistico. Naturalmente dopo aver letto un testo di San Paolo, per chi segue questa edizione siamo a pagina 222-223 o il riferimento generale e il manoscritto B, terzo verso eccetera. Teresa segue l'invito di Paolo di cercare il carisma più grande, cercate con ardore i doni più perfetti, ma io vi mostrerò, dice Paolo, una via ancora più eccellente. Siamo nella prima lettera ai Corinzi, diciamo siamo al passaggio tra capitolo dodicesimo e capitolo tredicesimo, perché il capitolo dodicesimo appunto parla dei vari carismi nella Chiesa, e tra questi doni naturalmente primeggia tra questi tre doni che sono le virtù teologali, primeggia la carità. E l'apostolo spiega, dice Teresina, come tutti i doni più perfetti non sono niente senza l'amore, l'inno all'amore di San Paolo, che la carità è la via eccellente che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo, dice Teresina. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo, o meglio, volevo riconoscermi in tutti. Infatti qui sembra all'inizio contraddirsi, ma lei stessa si riprende e dice no, volevo tutto, ma niente era talmente esaustivo da prendere tutto il mio essere e tutta la mia carica vocazionale di amore e di dono di me stessa. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capì che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti non le mancava. Capì che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capì che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa. Che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capì che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma che è eterno. Allora nell'eccesso della mia gioia delirante ho esclamato, oh Gesù mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, oh mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Nel cuore della Chiesa mia madre sarò l'amore, così sarò tutto e così il mio sogno sarà realizzato. La domanda che ci poniamo qua è solo il posto di Teresina o è un posto per tutti noi? È un posto per tutti noi. Teresina, anche come dottore della Chiesa, ci insegna che qualsiasi vocazione deve radicarsi nell'amore. L'amore con la A maiuscola, quindi non con l'affetto, con le emozioni, con le poesie, queste sono conseguenze che sono benvenute, ma tante volte i Santi non sentono questo e vivono comunque la vocazione all'amore. L'amore è dimorare nell'essere stesso di Dio che è amore. Ecco, questo primo punto è fondamentale perché ci fa capire che il desiderio missionario non deve venire da un desiderio politico di espansionismo o da un desiderio ideologico di far fronte, non so, alla diffusione di un'altra religione che magari ci fa paura, non deve neanche venire dal desiderio di farsi conoscere o di parlare in pubblico o di trasmettere il proprio sapere, deve venire da questo radicamento nella nostra vocazione che è l'amore, nel nostro vissuto, nel cuore della Santa Trinità. Passiamo adesso al secondo testo. Il secondo testo manifesta come il desiderio missionario dimora all'interno della nostra intimità con il Signore perché ogni intimità con il Signore non è una intimità sterile o sterilizzata e quarantenata, siamo abituati ormai a questo lessico, io e te soltanto, tet a tet, a lume di candela e ce ne frega di tutto il mondo. No, è un incontro intimo fecondo, è una nuzialità feconda. E qui Teresina, siamo nel manoscritto C, 33 verso 34 recto, in cui Teresina medita questo passo durante una preghiera di ringraziamento, un passo, anzi un piccolo versetto del Cantico dei Cantici. Attirami, noi correremo all'effluvio dei tuoi profumi. Ecco qui anche Teresina, non dico che fa una scoperta, ma sono esternazioni, più il posto di scoperte fatte in diversi momenti del suo cammino, ma capisce che la sua unione a Cristo richiama l'attrazione degli altri. Attirami, quindi al singolare, correremo. Quando attiri una persona, questa persona se è stata veramente attratta da te, toccata da te, la sua fecondità non si limita a una interiorità feconda, personale, soggettiva, chiusa in sé, ma ha una vocazione che raggiunge tutti gli altri. Anche qui vi leggo un piccolo passo, nel testo siamo a pagina 275, altrimenti il riferimento generale ve l'ho detto già prima. Gesù mi ha dato un mezzo semplice per compiere la mia missione. Mi ha fatto capire questa parola dei cantici, attirami, noi correremo all'effluvio dei tuoi profumi. O Gesù, dunque, non è nemmeno necessario dire attirando me attira le anime che amo. Questa semplice parola, attirami, basta. Signore, lo capisco. Quando un'anima si è lasciata a vincere dall'odore inebriante dei tuoi profumi, non potrebbe correre da sola. Tutte le anime che ama vengono trascinate dietro di lei. Questo avviene senza costrizione, senza sforzo. È una conseguenza naturale della sua attrazione verso di te. Come un torrente che si getta impettuoso nell'oceano trascina dietro di sé tutto ciò che ha incontrato al suo passaggio, così, o mio Gesù, l'anima che si emerge nell'oceano senza sponde del tuo amore attira con sé tutti i tesori che possiede. Questo secondo passo ci dice un'altra verità fondamentale della missione, l'immersione in Cristo. Cioè noi ci interroghiamo molto in progetti, nei gruppi specialistici di pastorale, come facciamo, quale linguaggio, quale video e quale PowerPoint usare. Il primo punto fondamentale è l'attrazione, l'immersione in Cristo. È lì che nasce la nostra missione, nella nostra immersione nasce la nostra missione. E questo il genio dei santi ce lo insegna, e ce lo deve ricordare sempre. Quando siamo presi dai progetti che non danno frutto, non diamo frutto forse perché siamo poco immersi nel Signore. Parliamo troppo del Signore, parliamo poco col Signore e al Signore. E arrivo al terzo e penultimo testo che vorrei citarvi. E prima di leggervi questo testo approfitto per fare una piccola osservazione, perché il testo è tratto dalla lettera 189 di Thérèse a padre Adolphe Roulon, Thérèse è missionaria anche con le tante lettere che scrive. Nella sua breve vita da carmelitana, Thérèse scrive oltre 200 lettere, perché in tutto le lettere sono circa 260, se non erro. Se escludiamo le lettere precedenti alla vita del Carmelo, le lettere carmelitane, dal postolantato fino alla fine della sua vita sono un po' più di 200 lettere. Cioè pensate, questa persona con il ritmo serrato della vita di una carmelitana, e ne so qualcosa quando penso alle mie amiche nel Carmelo, cioè che vita intensa che vivono, trova il tempo di comunicare, trova il tempo di parlare di Gesù, di toccare le persone che non può toccare da dietro la grata, ma con la parola, con la meditazione, col frutto della sua essere attratta a Gesù, porta questo frutto, questo condimento al vissuto degli altri che vivono fuori del mondo, affinché anche l'esterno sia un chiostro dove l'essere umano incontra il Signore. Ma veniamo qui a padre Roulon, cioè viene affidato come altri sacerdoti a Teresina e come altri sacerdoti ad altre sorelle del Carmelo, viene affidato questo neo sacerdote a Teresina e lei da un lato si sente, cioè non vi leggerò tutto perché altrimenti diventa un po' lunga la lettura, lei da un lato si sente indegna di essere associata, di essere una persona che pregherà per questo missionario, ma proprio nell'esprimere questo sentirsi piccola dinanzi a questa missione, indegna dinanzi a questa missione, la accoglie con obbedienza dicendo che in fondo esaudisce un grande desiderio suo di essere apostola. Sarò veramente felice di lavorare con lei per la salvezza delle anime, è per questo scopo che mi sono fatta carmelitana, non potendo essere missionaria d'azione ho voluto esserlo con l'amore e la penitenza, come Santa Teresa la mia serafica madre. E poi chiede al sacerdote proprio nel primo giorno della sua prima messa di pregare affinché il Signore incendia Teresa di un amore missionario grande. Ecco, vediamo un po' come quest'anima, convinta della sua clausura, a 15 anni va fino al Papa per convincerlo della sua vocazione claustrare e allo stesso tempo convinta della dimensione missionaria del suo essere, perché ogni cristiano nel mondo è una frontiera di grazia, è una frontiera di irradiazione di Cristo. E qui vorrei dire qualcosa di molto molto concreto. Prendo un esempio che mi ha toccato nei giorni scorsi e poi evoco l'esempio di una mia amica studentessa in questo periodo. L'esperienza che sto vivendo mi fa dire che qualsiasi cosa che fai può essere spazio di missione e devi essere attento che alcuni spazi tu puoi dimenticare che sono spazi di missione o distrarti dal fatto che sono spazi di missione, ma il Signore e le anime ti aspettano lì. Parlo del mio lavoro come docente di teologia, no? A volte ti lasci prendere dal programma dello studio, dall'organizzazione del tuo corso, dal fatto che vuoi trasmettere il più gran numero possibile di contenuti ai tuoi studenti nel breve tempo comunque di 12-13 sessioni di due ore e ti dimentichi a volte o metti in secondo piano che ci sono persone in cerca, che ci sono persone assetate. A tal proposito, proprio non molto tempo fa, mi si avvicina una persona che segue il corso non come studentessa di teologia, ma come studentessa che ha scelto questo corso come corso opzionale e mi dice io mi sono avvicinata a questo corso perché iniziando il mio percorso di studi che sto facendo ora mi sono venuti alcuni dubbi, alcune domande, alcune difficoltà e ho bisogno di trovare risposte. Ecco, questo mi ha fatto pensare come il percorso di teologia, anche se è un lavoro accademico, anche se la finalità ufficiale è necessaria, è quella di trasmettere non catechesi come sto facendo ora, ma proprio una formazione accademica non devi chiudere l'occhio che ha anche una missione. E tra l'altro nel discorso teologico, nell'insegnamento della Chiesa, la teologia è una missione ecclesiale e questo non dobbiamo dimenticarcelo. Vi ho dato questo esempio non per parlare di quello che faccio, ma per dirvi come anche il parlar di Dio a volte, se non sei attento, puoi distrarti e non ricordarti che è uno spazio missionario. Da un altro esempio, quello di una mia amica che dopo tante fatiche, dopo aver cresciuto le figlie e mandate all'università eccetera, ha deciso di cominciare, anzi di riprendere degli studi che aveva fatto a piccoli pezzi e mozziconi, cioè di fare proprio il percorso di scienze religiose. Io personalmente da osservatore esterno mi rendo conto che questa amica non è solo lì per fare un piacere a sé, ma forse anche senza volerlo sta diventando madre, accompagnatrice, esempio per tante persone che stanno magari iniziando questo percorso non con la sua esperienza e la sua maturità, ma con altri desideri. E questa presenza proprio ritorna a quello che dicevo prima, essere frontiera di grazia dove noi siamo, essere, per usare termini che non sono di Teresina ma di Caterina, essere nella nostra vocazione sapendo che se saremo quello per cui siamo chiamati incendieremo il mondo. E vorrei chiudere proprio con una piccola frase finale che condensa la spiritualità di Teresina e allo stesso tempo ci dice quanto questa ragazza è stata missionaria fino alla fine. È l'ultima sua lettera, così vi dico anche il numero di lettere contenute in questo volume, lettera 266, al fratello spirituale di Teres, Maurice Bellier, questo sacerdote missionario con il quale lei scambia diverse lettere e li scrive il 25 agosto 1897, quindi proprio in prossimità della sua morte, e lei ne è cosciente come vediamo del testo, non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo. Io la amo, infatti egli non è che amore e misericordia, è sull'altra faccia ultimo ricordo di un'anima sorella della sua. Quindi Teresa è cosciente che siamo verso la fine, ma c'è questo desiderio ancora di annunciare, e di non annunciare un concetto, ma un incontro, un Dio che è tutto amore e misericordia. Ecco, questa è la nostra missione, una missione per ricapitolare, che si radica nella scoperta della nostra vocazione di essere l'amore nel cuore della Chiesa. Questa vocazione siamo chiamati a viverla innanzitutto in un rapporto reale col Signore, attirami a te e corriamo, perché solo così la nostra vocazione può essere feconda, non sono i buoni propositi, ma il buon essere e il ben essere con il Signore. Questa missione la possiamo vivere da qualsiasi luogo, ognuno nel suo posto, e più siamo noi stessi, più siamo missionari, e preghiamo al Signore di portare questa missione fino alla fine della nostra vita. Vi auguro non solo una buona festa di Santa Teresina, ma una buona missione, perché siamo missionari, dovunque noi siamo, chiunque noi siamo.